Ciao a tutti, come state? Ben ritrovati, entrano i raggi del sole dalla mia finestra e perché li sto accogliendo in questa maniera così contenta e soddisfacente? Perché questa mattina all'Aquila c'è stata nebbia per gran parte della mattinata tant'è che anche non solo nelle basse quote, nella bassa conca, nella bassa valle ma anche ad esempio dove vivo io a 750 metri di altitudine per gran parte della mattinata c'è stata nebbia adesso si è diradada e finalmente entrano questi meravigliosi raggi di sole allora un contenuto, un contenuto, mentre chapeau a tutti voi e grazie di cuore per la crescita di questo canale sistematica ed esponenziale sia negli iscritti e sia nelle visualizzazioni dei video stiamo facendo crescere la nostra famiglia ormai anche sul canale YouTube ormai possiamo definirla una realtà e non ci resta che crescere allora iscrivetevi se non lo avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche like alla fine di questo video e commentate allora riprendiamo quei segnali di lungo termine che abbiamo analizzato nell'ultimo contenuto perché questi segnali iniziano ad essere importanti io ancora non annovenerei o meglio non cambierei questi segnali in tendenza vera e propria però certamente iniziano ad essere importanti allora eventualmente dal prossimo contenuto inizieremo veramente a parlare di tendenza ufficiale però i segnali sono forti perché? perché quei movimenti che noi nell'ultimo contenuto alla quale abbiamo dato una grande attenzione tant'è che il titolo era proprio quello prima settimana di novembre e di novembre con freddo e neve cioè nel senso nella prima settimana di novembre nel lag dal primo al 7 novembre si potrebbe verificare un'azione fredda sull'Italia da poterci far piombare più verso un inizio d'inverno che non da un cuore o da un pieno dell'autunno ecco quei segnali che noi avevamo visto di individuato nelle carte di un paio di giorni fa due o tre giorni fa adesso non ricordo con precisione attorno alle per quanto riguarda la didattica 192 ore ora adesso lo ritroviamo a 168 il segnale più importante a 144 ore adesso lo ritroviamo a 96 ore beh capite che a questo punto dobbiamo veramente iniziare a concentrarci e a focalizzarci per una teorica ecco non possiamo assolutamente ancora parlare di tendenza come vi ho detto però per una teorica possibile irruzione di aria fredda nella prima, nei primi sette giorni di novembre che poi siano il 3, sia il 5, sia il 4 questo non possiamo dirlo se prima non sciogliamo la prognosi da segnali a tendenza non possiamo assolutamente parlare di giorni precisi e determinati però certamente i segnali sono importanti li abbiamo individuati per fortuna come abbiamo individuato la non possibilità di una qualsiasi iluzione della fredda per Halloween lo avevamo detto però abbiamo invece individuato qualche segnale che ci faceva alzare le antenne per la prima settimana di novembre continuiamo a chiamarli in questo contenuto segnali se dal prossimo contenuto le cose iniziano a farsi veramente serie a livello di segnali e beh a quel punto scioglieremo la prognosi e non saranno più segnali ma tendenza che tendenza poi non vuol dire che avverrà quel tipo di tempo da lì a quei determinati giorni ma una tendenza vuol dire che iniziano ad esserci delle possibilità sempre più alte che quella cosa quell'evoluzione poi potrebbe accadere allora giriamo la telecamera del telefonino buttiamola verso il monitor e capiamo di cosa stiamo parlando siamo a 96 ore praticamente questa carta è per mercoledì 30 ottobre attenzione questa era una carta che più o meno potrebbe fare il pari e patta come si dice oppure potremmo metterla in diciamo in sovrapposizione con la carta delle 144 ore di 2-3 giorni fa quindi vuol dire che quei segnali erano importanti e quei segnali di quell'innesco di quei movimenti che ci dicevano guardate iniziate a focalizzare lo sguardo all'interno dei primi 7 giorni di novembre iniziano ad essere importanti perché ovviamente scendiamo 96 ore quali erano quei segnali? beh ve li ricordate benissimo le due saccature una che scendeva verso la 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 l'agroellandia e poi si dirigeva verso il labrador e il canada l'altra era quella che poi si dirigeva verso l'alaska vi ricordate abbiamo detto una saccatura che si dirigeva verso l'alaska quando si creano queste situazioni nel mezzo vuol dire che l'alta pressione trova il pertugio per per salire nella zona quasi zona titaniche e ormai l'abbiamo capito benissimo quando si creano queste situazioni quando l'alta pressione o meglio quando la pressione inizia ad aumentare in questi territori vuol dire che c'è uno start all'aria fredda di partire mettersi in marcia verso l'Europa ovviamente sul nord dell'oceano e poi con direzione verso l'Europa e quindi ecco che quell'innesco che noi avevamo individuato a 144 ore al quale dovevamo dare un'attenzione adesso lo ritroviamo a 96 ore allora possiamo tranquillamente dire che l'innesco ormai è cosa certa perché siamo a 96 ore quindi a 96 ore possiamo mettere con certezza l'innesco di una partenza di aria fredda dalla gruellandia in direzione attenzione direzione europa più di questo ovviamente poi non possiamo dire io passerei adesso alla carta invece non delle 192 quello ve lo faccio vedere più tardi ma proprio delle 144 ore perché la 192 ore di due tre giorni fa adesso è la 144 ore ovvero per il giorno del primo novembre più o meno con ovviamente le giuste e doverose modifiche del caso rispetto alla carta che avevamo visto 192 ore di qualche giorno fa però più o meno anche qui siamo quasi in una sovrapposizione ovvero a innesco avvenuto l'alta pressione ormai è posizionata per meridiani fin verso l'agroellandia vi ricordate la 192 di qualche giorno fa ci faceva vedere ormai l'aria fredda che interessava ovviamente inizialmente maggiormente come giusto che sia il nord europa come la penisola scandinava ma quando qui abbiamo dell'aria fredda e l'alta pressione è posizionata per meridiani in questo da questo settore dell'oceano fin verso l'agroellandia ovviamente l'azione dell'aria fredda tende ad essere meridiana e a scendere nei giorni ovviamente successivi verso l'europa nel cuore dell'europa la bassa pressione eccola qui non ce la siamo dimenticata perché questa potrebbe avere e se avrà e potrebbe avere un ruolo fondamentale che si muoveva in maniera retrograda verso la penisola eberica e verso le azzorre eccolo qui il muro anticiclonico la radice dell'alta pressione che poi sale fin verso l'agroellandia trova il muro anticiclonico e quindi da qui inizierà un suo poi lento movimento pari e contrario verso est quindi verso il mediterraneo e verso l'italia vi ricordate lo abbiamo detto attenzione quando si creano le azioni meridiane e poi abbiamo una bassa pressione nelle nelle medio basse latitudini europee le basse pressioni normalmente fanno da polo a trattore all'aria fredda che scende per meridiani e adesso con una carta del genere a 144 ore non possiamo assolutamente scartare l'ipotesi e qui ci rientriamo nei segnali non possiamo certamente scartare l'ipotesi di un'irruzione di aria fredda che potrebbe mettiamoli bene in mente queste parole come come vi sto parlando se no facciamo l'errore di di pensare ad una previsione e non è così però segnali potrebbe quindi stiamo usando anche il condizionale certo una carta così a 144 ore ci fa ipotizzare che nel mazzo delle ipotesi delle evoluzioni che potremmo avere o di un'evoluzione che potremmo avere nella prima settimana di novembre c'è anche quella di un'irruzione di aria fredda perché basterebbe veramente poco qualche passo verso est di questa bassa pressione una meridiane una meridianizzazione del getto più profonda dell'aria fredda ed ecco che poi la situazione potrebbe poi sfociare in un'irruzione di aria fredda sull'italia polo a trattore aria fredda e quindi il gioco sarebbe a quel punto fatta è fatto vediamoci qualche carta didattica ovviamente 192 ore del determinismo attenzione qua la dobbiamo prendere solamente per didattica però è quello che diciamo sempre quando ci spostiamo troppo avanti nel determinismo è un determinismo che ovviamente è figlio di delle due carte delle 96 delle 144 ore quindi nel mazzo delle possibilità ovviamente c'è quello che abbiamo detto la bassa pressione che prima era in questo determinismo quindi ripeto usiamola come didattica la bassa pressione che era presente sulla penisola iberica adesso la ritroviamo praticamente nel cuore del mediterraneo l'aria fredda che continua a scendere il mediterraneo polo a trattore perché in una falla barica depressionaria ed ecco che l'aria fredda a quel punto sarebbe pronta a dirrompere sull'italia ed apportare un primo vero e proprio peggioramento ripeto più di stampo invernale che non di stampo autunnale vogliamo continuare ovviamente con la didattica eccola qui didattica questa è veramente didattica e basta se tutto si incastrasse in questo modo ecco una nel mazzo delle possibilità attorno al 3 4 novembre eccola l'irruzione fredda che sfocia sull'italia dalla valle e se dalla valle dalla porta della bora e questa è una classica situazione invernale con poi diminuzione successiva sensibile delle temperature nucleo depressionario in quota dal carattere freddo e aria artica prima sul centro nord e poi in spostamento verso le regioni centro meridionali venti freddi instabilità tempo perturbato e su gran parte delle regioni italiane soprattutto del centro nord e poi soprattutto del versante adriatico sono quelle situazioni che poi portano ad avere anche delle precipitazioni nevose non solo in montagna ma anche a quote basse se non molto basse riferite ovviamente al periodo in essere che a quel punto sarebbe attorno al 4 novembre ma ripeto questa che stiamo facendo in questo momento è proprio didattica per far capire quello che potrebbe succedere se quegli incastri e quei segnali che abbiamo visto nelle carte precedenti poi dovessero confermarsi durante il corso dei prossimi giorni ultima carta e poi ci rivediamo per salutare una media enza 168 ore molto importante quindi tutte la media dei 50 clusters di cm di cmvf praticamente va va a sovrapporsi anche questa sul sul run deterministico e quindi a 168 ore più o meno tra il run deterministico isolato diciamo solo il run solo il il diciamo il clusters ufficiale e tutti gli altri tutti gli altri 50 clusters se noi facciamo una media esce praticamente questo siamo praticamente in una situazione molto uguale molto simile se non uguale al clusters ufficiale questo è molto importante vuol dire che questo movimento a 168 ore è un movimento che ha alta probabilità di verificarsi ed anche questo è un segnale che ci fa dire cosa ci fa dire ci fa dire ci fa dire che nel mazzo delle possibilità per un peggioramento più peggioramenti nel lag temporale primo 7 settembre inizia ad avere un peso specifico la possibilità di un'irruzione di aria fredda da poterci far vivere appunto un periodo più tipicamente invernale che non autunnale con addirittura quelle sono situazioni ma ce ne sono tante di esempi attenzione se se dovesse se dovessimo andare incontro ad un'irruzione di aria fredda attorno al 3-4 novembre sì ovviamente sono situazioni che ci portano temperatura al di sotto della media a vivere un tipo di tempo più invernale che autunnale ma non stiamo parlando di cose strane anomale nel corso degli anni sono accadute e io come vi dico spesso non sono più un giovincello ad esempio il 4 novembre del 1995 ebbè abbiamo avuto un'importante erruzione di aria fredda ma per dirne una e all'aquila il 4 novembre del 1995 sono caduti addirittura più di 30 centimetri di neve per dire insomma proprio a causa di un'irruzione di aria fredda novembrina ad inizio novembre quindi se dovessimo andare verso questa soluzione finale di un'irruzione di aria fredda nei primi sette giorni di novembre sì una situazione anomala per il periodo ma da non annoverare nelle cose oddio cosa sta succedendo anche questa è colpa del cambiamento climatico perché poi sempre lì si va a finire assolutamente no il cambiamento climatico è una cosa seria e lo sappiamo benissimo e quindi non dobbiamo fare anche qui l'errore di mettere tutto nel calderone se eventualmente sarà quindi ci siamo segnali segnali importanti ripeto non cadiamo nell'errore di far passare questo contenuto come una previsione no come segnali che danno che oggi prendono un'importanza più elevata sì se nel prossimo contenuto questi segnali ancora sono più presenti e più importanti allora inizieremo a parlare veramente di tendenza e a quel punto inizieremo a guardare con un occhio ancora più di riguardo una possibile irruzione di aria fredda che potrebbe interessarci nei primi sette giorni di novembre indicativamente attorno al 4 attorno al 4 novembre iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche like alla fine di questo video spingiamo il video spingiamo il canale e attivate la campanella appunto e commentate voglio leggere i vostri commenti anche se non dovesse rispondervi ma sappiate e questo ve lo garantisco ve lo giuro io leggo tutti i vostri commenti iscrivetevi al canale a presto iscrivetevi al canale